YOLANDA SWEETS Questo giveaway appunto doveva scadere quindi una settimana fa, io avevo bloccato i commenti e adesso li ho riattivati, comunque per il vincitore e mi raccomando lo dico sempre per favore non spacciatevi per il vincitore perché io e Daniele ce ne accorgiamo, comunque per il vincitore mi raccomando contattami poi su Instagram oppure su Youtube mandami un messaggio oppure su Facebook se hai Facebook, se non riesci a contattarmi ti lascio qua il nome di Daniele dell'Instagram di Daniele e contatta lui. Io cercherò comunque di capire se la persona che mi contatta è vera o falsa perché già mi è capitato molte volte di avere a che fare con persone che volevano imbrogliarmi e questa cosa non va bene. Comunque allora adesso dobbiamo lasciar caricare 24.000 commenti il che è veramente wow e poi facciamo l'estrazione del vincitore. Allora ragazzi eccoci qua, eccoci qua, vado a coprire e andiamo a cliccare il bottone e andiamo a scoprire il vincitore. Siete pronti? Oddio è tutto sparaflesciato, siete pronti? Oddio per vedere chi ha vinto? Il vincitore è The Julia Ward, fammi vedere allora, andiamo a cliccare, vediamo, c'è pure un canale, grande, 771 iscritti, oh wow, cavoletti di Bruxelles, bravissima, The Julia Ward, grande, ah brava, fai proprio video, 4 giorni fa, bravissima. Allora, Giulia mi ha scritto, partecipo superiore, ti voglio tanto bene e spero che raggiungerai obiettivi enormi con gli iscritti, mi piacerebbe tanto vincere, 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 vincere un bacione enorme. Allora la prima vincitrice quindi del premio è The Julia Ward, adesso invece andiamo ad estrarre il secondo vincitore. Allora, ecco l'altra vincitrice del primo premio, andiamo a scoprire, oh, Anita Catanzariti. Io le sei bravissima, ti seguo da molto e penso che sia una tra le youtuber più bravi d'Italia, grazie. Spero di vincere visto che è da molto che ci provo, ma comunque sia congratulazione al vincitore. Allora, brava Alessia, allora vediamo Alessia Catanzariti, sei tu Alessia? Quindi contattatemi tutte e due, mi raccomando, o su Youtube o su Instagram, se non riuscite a contattare me mi raccomando contattate Daniele, il profilo che vi lascio qua. Mi dispiace per chi non ha vinto, mi dispiace veramente tantissimo per chi non ha vinto, spero che partecipi al primo prossimo giveaway che sarà 650.000, che non è poi così lontano, lo spero almeno. E va bene, io vi mando un enorme bacio e un abbraccio e come sempre ci vediamo domani alle 14.30 con un nuovo video. Bye bye!